allora oggi proseguiamo con quello che abbiamo iniziato ieri ovvero continuiamo con quelle che chiamiamo diciamo le strutture dati di base quindi ieri abbiamo visto l'array statico abbiamo visto l'array dinamico dinamico oggi non so scrivere dinamico ok e abbiamo visto abbiamo visto la lista e abbiamo visto lo stack ok oggi vedremo le altre che ci mancavano quindi vedremo la coda chiamato in inglese q vedremo la double ended q chiamata deck che coda a doppio termine non so come chiamarla in italiano e poi ultima se abbiamo tempo vedremo anche la priority q le vediamo adesso perché poi tutte queste cose saranno i blocchetti base che useremo nel nella teoria dei grafi ci serviranno molte di queste strutture quindi le vediamo prima ok allora cominciamo con capire cos'è una q una q è una coda è un'altra struttura strata come lo stack che definisce le stesse operazioni quindi abbiamo una push di un qualche elemento e abbiamo una pop e abbiamo una size e cosa devono fare queste funzioni allora push inserisce un elemento size ci dice quanti elementi ci sono in questo momento all'interno della q della coda pop mentre nello stack restituiva e eliminava dallo stack l'ultimo elemento inserito nella q vogliamo che rimuova e restituisca il primo elemento inserito quindi se facciamo ad esempio push di 3 poi facciamo push di 5 poi facciamo push di non so 1 se facciamo pop pop dovrà restituire 3 perché il primo elemento inserito e lo rimuove se poi facciamo ancora pop dovrà restituire 5 e così via ok e come al solito vogliamo implementare tutte queste operazioni in o grande di 1 vogliamo che tutte quante le operazioni costino tempo costante ok normalmente se facessi come ho fatto per lo stack dovrei mettere ora provare a implementare la q di solito però è molto più comodo non pensare alla q direttamente ma pensare alla q come un caso particolare della deck della double ended q perché cos'è la deck la deck la deck è un'altra struttura astratta che invece deve avere queste tre operazioni ne ha 5 e quali sono queste 5 operazioni a push back a pop back a push front a pop front a pop front a pop front e a sites queste qua astitiuscono cose invece questo qua prende un parametro e vogliamo ancora tutte quante in o grande di 1 allora cosa sono queste 5 metodi queste 5 funzioni che vogliamo implementare per la nostra deck vabbè sites come al solito è quanti elementi ci sono dentro push back vuol dire aggiungi un elemento alla fine quindi se pensiamo di avere la nostra cosa ok push back di e vogliamo che aggiunga questo e qua ok quindi push back aggiungi un elemento alla fine push front aggiungi un elemento all'inizio pop back leva e restituisce l'ultimo elemento e pop front leva e restituisce il primo elemento ok quindi è per questo si chiama double ended queue cioè coda con due code diciamo perché si comporta un po' come una cosa che può andare in entrambe le direzioni perché ho detto che è meglio se ci focussiamo sulla deck che non sulla queue perché se abbiamo una deck funzionante allora avere una queue è banale perché basta rimappare la push della queue su push back e la pop della queue su pop front pop back e push front le possiamo ignorare se noi abbiamo una deck per implementare una queue beh basta che prendiamo una deck e rimappiamo push su push back e pop su pop front e sites rimane sites e queste due le scartiamo quindi in realtà ci basta vedere come implementare una deck e la queue ce l'abbiamo gratis ok quindi vogliamo implementare una struttura dati che implementi queste 5 operazioni in tempo tutte quante in tempo costante non è banale non è per nulla banale perché finora cosa abbiamo visto? finora abbiamo visto per esempio l'r dinamico l'r dinamico è un r statico in cui se aggiungiamo elementi possiamo aggiungere se possiamo aggiungere e levare elementi in fondo in tempo costante in media si dice ammortizzato per essere più tecnici però comunque possiamo aggiungere e levare elementi però in fondo in tempo costante qua quello che vorremmo fare è poter fare questa operazione contemporaneamente sia in fondo che in testa quindi levare e aggiungere elementi in testa in tempo costante purtroppo non possiamo usare un banale r dinamico per fare ciò perché mentre abbiamo dello spazio libero a destra cioè mentre usando come diciamo struttura dati dietro l'r dinamico un r statico e riempiendolo da sinistra verso destra lo riempiamo così e quindi in un qualunque momento abbiamo dello spazio libero a destra e se non ce l'abbiamo comunque lo aggiungiamo se non ce l'abbiamo poi squadra doppierà e ce ne avremo ancora quindi possiamo fare queste operazioni in tempo costante a destra a sinistra non ce l'abbiamo e allora per riuscire a fare questa cosa chiediamo aiuto alla buona cara vecchia algebra modulare aritmetica modulare insomma chiamatela come volete come facciamo allora se noi avessimo noi facciamo finta di avere anzi facciamo di avere un r dinamico ok questo qua è un r dinamico che quindi sarà riempito tot ok allora pensiamo un po' alle posizioni questo r dinamico c'ha le posizioni 0 1 2 3 4 5 6 7 6 7 ok quindi se volessimo usare questo r dinamico per implementare solo pushback e popback sarebbe banale perché come abbiamo detto lo usiamo normalmente facciamo la pushback quando dobbiamo fare pushback facciamo popback quando dobbiamo fare popback banalissimo quindi mettiamo che lo facciamo veramente quindi che ne so facciamo finta che dobbiamo fare le seguenti operazioni chiamo facciamo così diamo dei nomini alle cose chiamo questo qua pub pob pof e pof bellissimi sti nomi così almeno ho uno short end facciamo finta che quindi dobbiamo fare pub di 3 pub di 5 pub di 4 pob anzi facciamo anche un pof di 2 ok e poi facciamo un pob ok queste sono le 5 operazioni che vogliamo fare qua dentro allora cominciamo vabbè pub di 3 banalissimo quindi avremo il nostro aerodinamico chiamiamolo diamogli un nome a questo aerodinamico chiamiamolo A ok cosa cos'ha il nostro aerodinamico dentro beh A dove siamo arrivati ok chiamiamolo S e la capacità che è 8 che è quanto è grosso il restatico sotto allora cominciamo facciamo pub di 3 pub di 3 cosa succederà beh lo metterà qua e farà incrementare S a 1 pub di 5 beh cosa farà metterà qua e farà incrementare questo a 2 pub di 4 stessa cosa ok il problema arriva qua ovvero che puff dovremmo aggiungere un elemento alla posizione meno 1 ma la posizione meno 1 non ce l'abbiamo cioè dovremmo cosa potremmo fare potremmo o ricreare l'array sottostatico ma se lo facciamo ogni volta che dobbiamo fare una puff ci costa tempo lineare la push front invece vogliamo costante cos'altro possiamo fare beh l'idea è questa noi stiamo implicitamente assumendo nell'array dinamico che la posizione di partenza dell'array sia la posizione 0 che è ovviamente un'assunzione ragionevole ok chiamiamo t per start noi stiamo assumendo che la posizione di partenza sia la 0 ma se dovessimo sollevare questa assunzione possiamo usare il non assumere qual è la posizione di partenza più qualche altro trick per implementare questa puff in tempo costante domanda retoica possiamo possiamo perché cosa vuol dire aggiungere un elemento prima del primo beh se noi potessimo portare indietro di 1 il l'inizio del vettore ok se potessimo portare indietro di 1 qual è l'indice di inizio del vettore in tempo costante beh potremmo scrivere in quella posizione e abbiamo ridefinito qual è l'inizio del vettore e quindi poi le cose vanno avanti tranquillamente ma allora se noi consideriamo le posizioni del nostro vettore come un sistema di aritmetica modulare in modulo c ok dove c è la dimensione del re statico che c'è sotto cosa possiamo fare possiamo portare indietro se dobbiamo fare un puff come in questo caso possiamo portare indietro di 1 l'inizio del vettore e 0-1 modulo c fa dove c è 8 in questo caso quindi 0-1 modulo 8 fa 7 ok perché siamo in modulo 8 quindi se torniamo indietro di 1 fa 7 0 possiamo scrivere l'elemento nella posizione in cui abbiamo messo il nuovo inizio quindi abbiamo messo la posizione 7 ora il nostro vettore logicamente solo logicamente inizia da 7 quindi qua ci scriviamo un 2 e aumentiamo di 1 la dimensione reale del vettore cioè quanti spazi abbiamo occupato beh in questo modo ci abbiamo messo tempo costante o no perché cosa abbiamo fatto abbiamo portato indietro di 1 dove inizia il vettore e quindi tempo costante abbiamo scritto in quella cella e quindi tempo costante e abbiamo aumentato la dimensione di 1 e quindi tempo costante due domande per voi prima domanda è tutto chiaro e se ci sono domande fatemele e seconda domanda questa cosa può portare a problemi c'è un qualche problema a fare questa cosa? io non ho molto ok dimmi perché allora se noi mettiamo la t la mettiamo indietro quindi diventa 7 ma quindi non non abbiamo proprio mai solo l'elemento all'inizio del vettore no noi praticamente ok ok mi sono dimenticato un pezzettino cioè nel senso è implicato ma lo esplicito noi facendo questa cosa ok cioè t vuole rappresentare l'inizio logico del nostro vettore cioè secondo noi facciamo finta che non inizia da zero diciamo noi da dove inizia ok il vettore a questo punto non lo vediamo più come logicamente parlo sempre non realmente realmente poi è così è fatto così questo vettore ma logicamente noi facciamo finta essendo che stiamo lavorando in aritmetica modulo c che lo vediamo non come una sequenza come se fosse un segmento ok ma lo vediamo come se fosse un cerchio ovvero l'elemento dopo il 7 è lo 0 e va avanti così all'infinito cioè lo vediamo come se fosse una cosa circolare infatti un altro nome di questa struttura di dati è buffer circolare e quindi se lo vediamo come un cerchio e non come un segmento beh siamo noi a decidere da dove parte lo possiamo farlo partire da qualunque punto e per la nostra comodità se dobbiamo aggiungere un elemento all'inizio del nostro array logico attenzione non di quello reale perché ovviamente poi in memoria sarà fatto così cioè nel senso in memoria è veramente fatto così ma a noi ci basta avere questa strazione logica di come lo stiamo pensando noi è vero che in memoria è così ma se noi logicamente lo facciamo partire da qua ok e diciamo che lungo 4 beh possiamo comunque tipo scorrerlo perché cosa facciamo inizializziamo il contatore a t e lo incrementiamo in modulo c s volte e lo stiamo scorrendo logicamente è come se fosse un array contiguo poi de facto in memoria non lo è ma logicamente lo è non so se ho risposto alla tua domanda sì già meglio però anche un'altra cosa ma quindi se noi vogliamo fare puff non lo so ancora 5 volte a un certo punto non possiamo più perfetto ok e questa è la risposta alla seconda domanda quando è che sta cosa non funziona più? beh che se dai voglio che me lo esprimi un pochino meglio qual è la condizione per cui qual è la condizione per cui ci accorgiamo che si rompe? si rompe quando quando è tutto pieno ok me lo sapresti esprimere come sc eccetera sì come condizione quando s maggiore di 8 forse non so se però non so molto boh eh vabbè allora scusami c è quanto è grosso il vettore statico che c'è sotto giusto? ok s è quanti elementi abbiamo messo nel nostro vettore logico quindi quando s è uguale a c quando s è uguale a c quando s diventa uguale a c questa cosa si rompe però per ora facciamo finta che non capiti per un istante siamo convinti che finché s è minore di c questa cosa funziona sempre cioè possiamo fare pof pub pob pof tranquillamente così perché pub cosa dobbiamo fare? per fare pub quello che facciamo è che mettiamo il mettiamo l'elemento nel prossimo spazio libero da destra quindi il nostro vettore logico avrà una partenza avrà una fine mettiamo un elemento nella posizione finale i conti se volete poi li faccio ma tendenzialmente è t più s più 1 modulo c in la posizione se dobbiamo per esempio fare adesso un pub di 7 cosa facciamo? aumentiamo questo qua a 5 ci scriviamo un 7 qua ok pub quindi lo facciamo così pub beh cosa facciamo? leviamo l'ultimo elemento del nostro vettore logico e diminuiamo di 1 s ok quindi così se dobbiamo se dobbiamo fare un puff facciamo un puff di 0 cosa facciamo? diminuiamo di 1 l'inizio del vettore e scriviamo in quella posizione l'elemento di cui abbiamo fatto puff e aumentiamo di 1 s perché è aumentato di 1 la dimensione del vettore logico quindi questo è come si implementa puff e per implementare puff beh aumentiamo di 1 cancelliamo l'elemento che è attualmente l'inizio e aumentiamo di 1 la posizione iniziale del vettore logico e diminuiamo di 1 la dimensione del vettore logico quindi così ok e sides ovviamente è banale s sides che è la dimensione del nostro vettore logico s ok quindi nell'assunzione ovviamente che s rimanga minore di c fino a qua è chiaro? ok bene l'ultima cosa di cui ci dobbiamo preoccupare quindi adesso è ma se s diventa uguale a c ovvero mettiamo che qua faccio un po' di pub e di puff tali che che ne so mettono 0 un 3 un 2 un 1 quindi questo sarà diventato 8 perché facciamo fin del che ho fatto un po' di pub ok io ho aggiunto 0 3 2 1 a questo punto abbiamo che l'inizio se dobbiamo aggiungere un altro elemento che sia con puff o con pub indipendentemente abbiamo il problema che o l'inizio collide con la fine del vettore logico o che l'elemento che dobbiamo aggiungere andrebbe a sovrascrivere l'inizio e non ci piace questa cosa ma e quindi tendenzialmente cosa dovremmo fare dovremo aumentare lo spazio disponibile ma non abbiamo già visto un trick per aumentare lo spazio disponibile e garantire che poi le operazioni costeranno tempo costante domanda per voi raddoppiare tipo l'erreo dinamico se noi ci troviamo nelle situazioni in cui s uguale c e dobbiamo fare una push o un cioè una push o pub o puff che sia il trick è sempre il solito ovvero possiamo raddoppiare la dimensione del vettore allora cosa facciamo questa è un pochino più delicata dobbiamo stare un minimo più attenti non tantissimo ma un minimo più attenti perché cosa faremo beh allocheremo un vettore un vettore lungo il doppio facciamo che ne aggiungo uno qua dovrebbero essere 16 ma chi se ne frega facciamo finta che siano 16 quindi c uguale a 16 ok e cosa abbiamo detto nell'erreo dinamico quello che facciamo è che prendiamo questo vettore verbatim cioè come come è scritto così e lo ricopriamo di qua quindi dovrei scrivere 3,5,4,0 ma è corretto se faccio così cioè ricopiare questo vettore pari pari il vettore reale dico ricopiare questo vettore reale così pari pari è corretto cioè mantiene no perché non non distingue l'inizio dalla fine esattamente ma allora come posso fare bisogna iniziare da copiarlo da t dalla casella t e poi finire copiando le prime caselle esattamente cioè noi dobbiamo copiarlo però non dobbiamo copiarlo dall'inizio del vettore reale dobbiamo copiarlo dall'inizio del vettore logico noi sappiamo che l'inizio del vettore logico adesso è 7 quindi cosa facciamo è come se partiamo da qua ok ho fatto una riga terribile partiamo da qua e andiamo in questa direzione quindi copieremo prima il 2 ok se poi ci sono altri andiamo avanti quando raggiungiamo la fine copiamo gli altri partendo dal primo fino ad arrivare a dove siamo partiti quindi 2 2 3 5 4 0 tale 1 ok perché a questo punto cosa possiamo fare beh la dimensione del vettore logico sarà la stessa perché l'abbiamo solo copiato ma adesso abbiamo resettato dove si trova la partenza la partenza quando facciamo quest'operazione di copia nel vettore lungo il doppio non sarà più alla posizione in cui era prima ma sarà a 0 sempre perché quando copiamo quando dobbiamo fare quest'operazione che tanto ci costa tempo lineare tanto che ci siamo ma anche perché non andrebbe bene sennò perché il vettore non finisce più qua e quindi questo wrap around non funzionerebbe più se avessimo messo l'ultimo elemento in mezzo lo riordiniamo cioè nel senso rimettiamo il vettore che aveva una partenza in un punto in mezzo arbitrario lo rimettiamo alla partenza e quindi possiamo poi continuare a fare il giochino del pushback e pushfront come abbiamo fatto prima e visto che ogni volta le prossime se era tipo 8 raddoppiamo a 16 abbiamo pagato 8 per fare la copia ok ma le prossime 8 pushback e pushfront costranno tempo costante e quindi come abbiamo visto per l'aerodinamico questa cosa in media costranno tempo costante ok tutto chiaro ci sono domande? sì ma quando poi quindi si fa diventare l'array lungo a 16 sì poi si vuole fare un pushfront sì t da 0 dov'è che va? a 7 o a andrà a 15 perché lavoriamo in mod c però adesso c era doppiato quindi cos'è a mod c c è 16 adesso perché ora abbiamo fatto la copia e questa cosa l'abbiamo eliminata quando facciamo raddoppiamo copiamo e poi eliminiamo quello vecchio e ora abbiamo quello nuovo ma quindi ora se voglio fare un pushfront facciamo esattamente come prima ovvero spostiamo indietro di 1t ma 0-1 in modulo c che adesso c non è più 8 e 16 quanto fa? fa 15 ok ok quindi t farà 15 mettiamo che vogliamo fare un pushfront di 9 ok allora qua verrà scritto 9 che è nella posizione della nuova partenza e aumenterà di 1 la dimensione del vettore logico ok ok e quando si quando si allunga così il vettore e poi si copia tutto il tempo è costante perché quando lo lo raddoppi tante volte poi alla fine non devi raddoppiarlo allora il fatto è che nell'istante in cui raddoppi quella operazione la paghi lineare perché devi copiare n elementi cioè non n pardon s elementi e quindi ti costa lineare il fatto è che poi le prossime c mezzi operazioni ok perché ora tu hai raddoppiato da 8 a 16 quindi hai pagato 8 però le prossime 8 operazioni ti costa un tempo costante perché non dovrai aumentare e quindi io ve l'ho fatto vedere solo intuitivamente ma si può fare proprio una dimostrazione formale se tu fai quindi n di queste operazioni ok è vero che ce ne saranno alcune che costano tanto la stragrande maggioranza costerà poco e se fai la media ok questo si chiama analisi ammortizzata se fai la media di queste operazioni se fai per essere più precisi il limite per niente infinito di questa cosa quindi la somma del costo delle operazioni fratto quante operazioni hai fatto beh vedi che in media ti costa costante ti costa grande di 1 quindi è vero che la singola operazione potrebbe non costarti costante questo è vero perché quando la doppi costa lineare ma in media ti costa costante ok ci sono altre domande e guardate che quando vi chiedo ci sono altre domande a me fa estremamente piacere che ci siano altre domande mi fa veramente molto molto piacere quindi se ci sono fatele ok allora questa era la deck double-ended queue fate come volete tra l'altro oltre alle 5 operazioni che ci siano dette quindi mancava la sites perché vabbè è restituire S la sites in realtà non lo vediamo ma è molto banale cioè pensateci in attimo è veramente banale si può usare si può oltre ad avere queste 5 operazioni si può anche fare l'accesso a un qualunque elemento del vettore logico in tempo costante cioè se io voglio accedere al terzo elemento del vettore logico in questo qua cioè non al terzo ma al quarto che quindi è 5 ok perché 0 1 2 3 quindi 5 è il quarto elemento del vettore logico posso farlo in tempo costante bastano 3-4 operazioni ma ve le trovate non è per nulla difficile è sempre questione di fare delle somme e un modulo ok tra l'altro mi sa che proprio T più indice modulo C dovrebbe essere bene allora adesso quindi queste qua erano tutte quante le strutture dati semplici che vedremo l'utilità sono utili tutte quante vedremo esattamente in che ambiti poi ok ma c'è un'altra struttura dati che è un pochino più complessa che vediamo oggi non so quanto tempo ci metto se ce ne metto troppo magari taglio o se no finisco e poi vediamo perché è più complicata e si chiama la priority queue e mai una volta che riesco da cercare come si scrive Q al primo colpo ok che è la priority queue quindi finora cosa abbiamo visto le strutture astratte che abbiamo visto sono queste cioè e che vedremo perché la priority queue non abbiamo ancora vista però sono queste quindi lo stack è una struttura di quella che si dice tipo l'ifo ovvero il primo che entra il ok pardon l'ultimo che entra è il primo che esce che vuol dire l'ifo sta per last in first out l'ultimo che entra è il primo che esce ok poi abbiamo visto la queue che in realtà è un caso speciale della deck che è una struttura invece di tipo fifo ovvero il primo che entra è il primo che esce è come la queue è come una normalissima coda come se fosse la coda imposta ok la priority queue è invece una coda in cui il primo che esce è il minore ovvero cosa abbiamo nella priority queue abbiamo sempre una push una pop e una sites ok abbiamo sempre una push una pop una sites ma mentre stack e queue come funzionavano stack tipo per esempio inseriamo che ne so 3 5 7 2 ho fatto push 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 facciamo una pop il primo che se ne va è il 2 poi il 7 poi il 5 poi il 3 ok questa era lo stack poi ci abbiamo la coda che quindi se faccio se inserisco tipo 3 2 5 e poi faccio uscire qualcuno beh quello che esce sarà il 3 che è il primo che è entrato ok poi il 2 poi il 5 invece la priority queue è del tipo che se metto dentro 5 7 2 3 9 e ho fatto push 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 se faccio pop quello che voglio che mi venga restituito è 2 se faccio un altro pop poi voglio 3 se faccio un altro pop poi voglio 5 poi 7 e poi 9 ovvero quindi push inserisce un elemento sites mi dice quanti elementi ci sono dentro in questo momento pop voglio che mi restituisca e rimuova l'elemento più piccolo questa particolare priority queue cioè si chiama una min priority queue perché restituisce il minimo possiamo ovviamente fare la conversa che è la max priority queue che invece restituisce il massimo però sono equivalenti alla fine è solo questione di come poi si ordina il verso dei confronti che faremo ok quindi prima cosa è chiara la struttura stratta che vogliamo implementare ok della priority queue è chiara la struttura stratta quanto meno di push pop e sites cosa devono fare ok il fatto è che finora tutto quanto quello che abbiamo visto finora l'abbiamo implementato in o grande di 1 ok ed era un tempo ottimo perché è costante meglio di più non possiamo fare in realtà vedremo che nella priority queue o grande di 1 non si può fare tra l'altro piccolo piccola cosa che potete pensarci se poteste fare una priority queue che ha tutte le operazioni in o grande di 1 allora violereste uno dei teoremi che abbiamo visto ovvero che non si può ordinare un vettore per comparazione in meno di n o n pensateci perché è vero però quindi se si potesse fare in o grande di 1 queste operazioni allora potremmo ordinare un vettore in tempo lineare e quindi violerebbe quel teorema e quindi non si può fare quello che vedremo in realtà è che implementeremo questa cosa con una size che ci costa costante invece una push e una pop che ci costano un po' più di costante ci costano un logaritmo push e pop ci costeranno un tempo logaritmico è tanto male no assolutamente no perché allora ovviamente il tempo costante è costante ci mette un tempo costante quindi è la cosa più bella per definizione se avessimo un milione di elementi se ci mettesse un tempo lineare sarebbe non carino perché magari un milione no ma se abbiamo tipo non so 50 milioni di elementi beh potrebbe metterci un secondo è veramente tanto log n invece è un numero che è comunque molto piccolo perché il logaritmo di ricordatevi che è sempre il c'è questa equivalenza per cui 10 alla terza è circa uguale a 2 alla 10 10 alla sesta è circa uguale a 2 alla 20 e così via abbiamo sempre che 10 alla 3 n è circa uguale a 2 alla 10 n ok questi logaritmi sono in base 2 e quindi abbiamo che se abbiamo un milione di elementi che sarebbe quindi 10 alla sesta il logaritmo di questo numeraccio qua sarà circa 20 perché questo è un logaritmo in base 2 quindi il logaritmo in base 2 è 2 alla 20 è 20 quindi in realtà sì non ci costa 1 ma ci costa 20 è un pochino di più ma non è tanto di più quindi ci va più che bene ok la parola di TQ è un è un pochino più complicata è un un po' più complicata ma la vediamo con calma allora diamo per assodato adesso che sappiamo cos'è un vettore dinamico cos'è un R dinamico perché lo useremo e diamo per assodato che sappiamo cos'è quindi allora la prima cosa di cui dobbiamo parlare è però di cos'è un albero in informatica non in botanica in botanica spero che sapete tutti quanti cos'è un albero ma dobbiamo parlare di cos'è un albero in informatica un albero è una struttura gerarchica che è fatta nel seguente modo ha una radice ok che io faccio con un pallino ok e questa radice a sua volta ha collegati altri alberi ok quindi un albero è sempre composto in struttura ricorsiva che è composta da una radice collegata a un qualche numero di altri alberi ok adesso sono disegnati 4 ma potrebbe essere 3 potrebbe essere 2 potrebbe essere 1 potrebbe essere 0 ok quindi cos'è è una radice collegata ad altri alberi per esempio qua potremmo avere un albero con poi un altro albero sotto con 0 alberi sotto qua potremmo avere così qua potremmo avere così e qua potremmo avere così questo è un albero un albero è una struttura ricorsiva ripeto che è composta da una radice ok collegata ad altri alberi quindi poi ognuno di questi alberi sarà a loro volta una radice collegata a un qualche altro numero di alberi che a loro volta sarà una radice collegata a un qualche altro numero di alberi possibilmente 0 ok questa è la definizione di albero quindi e chiamiamo quindi radice di tutto quanto quest'albero beh questo nodo qua e le singole quindi le singole radici per un altro modo di chiamarle sono nodi e chiamiamo nodi le radici dei sottoalberi che non sono l'albero principale quindi questo è un nodo questo è un nodo questo è un nodo ma anche questo è un nodo sono tutti nodi chiamiamo radice il nodo che è capostipide di tutti quindi questo qua e chiamiamo arco i collegamenti tra gli alberi quindi questo è un arco questo è un arco questo è un arco sono tutti archi va bene quindi questo è un albero ok chiamiamo un albero binario cioè un albero è binario quando ogni nodo ha al più due figli cioè ha al più due collegamenti chiamo figli i collegamenti verso il basso di un nodo quindi ogni nodo ha al più due figli se ogni nodo ha al più due figli così potrebbe essere così ad esempio ok se ogni nodo ha al più due figli allora questo albero si chiama binario binario perché appunto si biforca al massimo in due modi ogni volta fino a qua siamo a definizione quindi questo qua è un albero binario ok ora chiamiamo un albero binario completo cioè un albero binario è completo se tutti quanti i figli cioè se ogni nodo ha esattamente due figli tranne l'ultimo livello quindi ogni nodo deve avere due figli ok così magari un pochino meno storpio ok chiamiamo un albero binario completo se ogni nodo ha esattamente due figli tranne l'ultimo livello che ne è esattamente zero questo è un albero binario completo ok quindi questo è un albero perché ogni nodo è composto da cioè nel senso è un albero perché un albero è un nodo con dei figli che sono altri alberi quindi questo è un nodo cioè ha dei figli che sono altri alberi e così via e così via ricorsivamente è binario perché ogni nodo ha il più due figli cioè ha il più due alberi che sono collegati a lui verso il basso ed è completo perché ogni nodo ha esattamente due figli tranne l'ultimo livello di figli che tra l'altro si chiamano e le chiameremo così foglie l'ultimo livello si chiamano le foglie se un nodo non ha figli si chiama foglia ok lo scrivo meglio queste sono le foglie è un'analogia un po' della botanica cioè le foglie alla fine sono potete pensare a questi qua come se fossero i rami ok potete pensare a questi qua come se fossero i nodi cioè come se questo fosse veramente un albero questi sono i nodi questi qua sono i rami e i nodi che non hanno più figli che non hanno più rami sono foglie ok quindi dicevo è un albero perché segue la definizione ricorsiva di albero è binario perché ogni nodo ha il più due figli ed è completo perché ogni nodo ha esattamente due figli tranne l'ultimo livello che ne ha esattamente zero ok ci manca l'ultimo pezzo che è albero binario completo a sinistra ovvero un albero binario completo lo è a sinistra se è un albero binario completo ma rilassiamo l'ultima condizione ovvero l'ultimo livello ci possono essere dei nodi mancanti a destra tipo così un attimo che devo cancellare ma do un pochino più fine eccola qua ovvero deve essere un albero binario completo però l'ultimo livello può avere dei nodi mancanti a destra cioè ci deve essere una zona tutta a sinistra piena e poi una zona tutta a destra vuota ok deve essere per forza vuota quella a destra può anche non essere vuota cioè un albero binario completo è anche un albero binario completo a sinistra però l'albero binario completo a sinistra la zona a destra può essere potenzialmente vuota però potrebbe anche non esserlo perché per forza destra? è perché è la definizione di albero binario completo a sinistra se fai un albero binario completo a destra il vuoto è a sinistra è completo a sinistra perché a sinistra è completo perché c'hai nodi a sinistra ok e questa è la struttura dati che dobbiamo usare un albero binario completo a sinistra ok bene ora ci serve un'altra definizione che è quella di un perdon di uno heap ora io ho già parlato di heap quando parlavo della memoria del computer questo è un altro heap ci sono due cose che si chiamano con lo stesso modo un po' come pesca e pesca che ci dobbiamo fare anche la lingua inglese ha queste cose questo qua è un altro heap che è una struttura dati astratta invece di essere una zona di memoria dedicata al sistema operativo cioè che il sistema operativo dedica uno heap in questo contesto è un albero dove ogni nodo ha un valore quindi è un albero qualunque non è un albero per forza binario o completo è un albero uno heap è un albero in cui ogni nodo ha un valore quindi che ne so tre sette eccetera eccetera e per cui vale che ogni nodo non ha un figlio che è minore di lui ok perché ogni nodo ha un valore adesso e quindi un albero è uno heap se ha dei valori su ogni nodo e vale che per ogni nodo nessuno dei suoi figli ha un valore minore di lui quindi per esempio tre ok per rispettare la proprietà di heap nessuno dei suoi figli deve essere minore di tre quindi potrebbe essere cinque potrebbe essere anche tre ok ma sicuramente qua non poteva esserci un uno se no non era uno heap ok quindi qua può essere tre e qua può essere sei ad esempio rispetto alla proprietà di heap perché abbiamo detto che heap ripeto è un albero dove ogni nodo ha un valore e per ogni nodo il valore dei suoi figli nessuno nessuno dei valori dei suoi figli è minore del suo valore questo per ogni nodo quindi anche lui anche lui eccetera eccetera quindi se qua per esempio mette un uno questo non era uno heap perché per tre è rispettata la condizione ma per cinque no perché c'è un figlio che è minore ok scusa dimmi mi sono perso un attimo la definizione di albero binario completo a sinistra allora un albero binario completo ci siamo ok sì è completo a sinistra notare che è una roba più debole non è più forte è più debole è completo a sinistra perché ammettiamo anche che nell'ultimo livello manchi un pezzo a destra cioè un pezzo a destra sia vuoto ok cioè nell'ultimo livello nell'ultimo livello di nodi ok mentre l'albero binario completo deve avervi tutti sì l'albero binario completo a sinistra può non avere un suffisso cioè un un ultimo pezzo un ultimo sotto insieme di nodi può non esserci cioè qua ci dovevano essere altri cinque nodi giusto? sì ok va bene può non esserci può anche esserci un albero binario completo è un albero binario completo a sinistra il contrario non è sempre vero cioè un albero binario completo a sinistra può essere completo se ha tutti quanti però se gliene manca qualcuno ed è importante attenzione che siano contigui cioè questo non è un albero binario completo a sinistra perché ci sono due buchi c'è un buco qua di due nodi e c'è un altro buco qua di due nodi ok questo non è un albero binario completo a sinistra è un albero binario completo a sinistra Se c'è un unico buco a destra Possibilmente vuoto Ok? Ok, grazie Ok, abbiamo detto la definizione di heap La struttura dati che vedremo oggi E ora unisco tutte le quante la definizione Un'unica definizione È l'hip binario Che è il più semplice tra gli heap Uno heap binario È uno heap Che è un albero binario completo a sinistra Quindi heap binario È la somma Ok Heap binario è la somma di heap Quindi deve essere uno heap Più albero binario completo a sinistra Quindi uniamo questi due concetti Questo è uno heap binario Che è la struttura dati che oggi guardiamo Allora Disegniamo Uno heap binario valido Quindi Heap Binario O binary heap In inglese Come sarà fatto? Beh, allora Intanto deve essere un albero binario completo a sinistra Su questo non ci piove Ok Quindi che ne so Intanto questo è un albero binario completo a sinistra E su questo non ci piove Perché Tutti quanti hanno due figli Tranne l'ultimo livello A cui mancano due nodi a destra Ma va bene Per essere uno heap Deve avere dei valori di nodi Allora mettiamoci Però deve valere la proprietà di heap Ovvero che Se io metto qua un 3 Beh, allora qua non ci può essere nessun valore minore di 3 Quindi qua ci può essere per esempio un dato 3 Questo è valido Qua ci può essere un 5 Qua ci può essere un 4 E qua ci può essere un 6 Questo è un heap binario valido Allora Cosa possiamo notare Di questa struttura dati? La prima cosa Che probabilmente vi salta già all'occhio È Che di tutti quanti gli elementi che ci sono qua dentro Cioè di tutti quanti i numeri che ci sono qua dentro Quello che c'è nella radice Deve essere per forza il minore Per forza Perché se non possono esistere Valori minori Nei figli E quindi vale anche per i figli dei figli E così via Beh, allora per forza di cose Il valore che c'è nella radice Deve essere il minore di tutti Ok? Quindi Già ci dà una parvenza Che questa struttura dati Possa in qualche modo Aiutarci a implementare Una Il nostro La nostra priority queue Che è la struttura dati estratta Ok? Noi stiamo cercando di implementare Una Ricordiamoci Priority Queue Cioè una cosa di priorità Ok? Questa è la struttura dati estratta Che vogliamo implementare E per implementarla Vorremmo usare Uno heap binario Che a sua volta Poi vedremo Che userà Gli array dinamici Allora Vediamo Quindi Allora Quindi sapendo adesso Che abbiamo la proprietà Che il minimo È La radice Ok? Vogliamo cercare Di implementare Sullo heap binario Le seguenti due operazioni Che sono Aggiungere un nodo Ok? Quindi aggiungere un nodo Con un certo valore E Rimuover la radice Perché vogliamo fare questo? Perché se noi riusciamo Ad aggiungere un nodo Che ne so 3 2 Ok? E in qualche modo Riusciamo a ripristinare La proprietà di heap In questo heap Beh allora Abbiamo che Alla fine In qualche modo Il 2 Dovrà Arrivare qua Il 3 Dovrà andarsene Il 2 Dovrà arrivare qua Perché Nello heap Il minimo È sempre nella radice Ok? Quindi se riusciamo A implementare l'operazione Di aggiungere un nodo E in qualche modo Ripristinare la proprietà Di heap In modo veloce Beh allora ci troviamo L'elemento minimo In testa E quindi questo Fondamentalmente Sarà il nostro push Il nostro push Sarà aggiungere un nodo Contenente il valore Che ci ha dato la push La pop Invece cosa sarà? Se noi riusciamo A tagliare la radice Ok? E in qualche modo A ricreare Uno heap binario In modo abbastanza veloce Beh abbiamo tagliato la radice Quindi abbiamo Il valore minimo Che è quello che dovrà restituire La pop E Beh abbiamo Di nuovo l'heap binario E quindi abbiamo pronto Il prossimo minimo E possiamo poi Continuare a farci Le operazioni sopra Ok Scusatemi un istante Che bevo Perché la voce Sta andando E tra l'altro Vi avviso che Questa lezione sarà Un pochino più lunga Mi dispiace ma In nome della scienza In nome del binario Allora Dimmi Il push Non è né front Né back Il push Non è né front Né back Cioè il push È definito Nella priority queue Il push È definito come Voglio aggiungere Questo elemento Non mi importa dove Voglio aggiungere Questo elemento La pop Invece Dice Voglio levare L'elemento minimo Per questo si chiama Coda di priorità Perché è una coda Però con priorità Cioè le In qualche modo I numeri sono Le priorità È come se tu andassi Alla posta Però I ticket Il numero Che c'è sopra Non è Il tuo La tua posizione in coda No In qualche modo È la tua posizione in coda Solo che non è detto Che distribuisca i ticket In ordine Cioè magari Te entri Ti dai il ticket 500 Poi entro io E mi dai il ticket 200 Beh io verrò Servito prima di te Che è come funziona In realtà Ok Il fatto che Ammette Che L'ordine In cui fai Il push Delle cose Non deve essere Per forza L'ordine In cui poi Verrà fatto Il pop Cioè io potrei Mettere Prima il 5 Poi il 2 Poi il 3 Però quando faccio Pop Mi dovrà dare Prima il 2 Che era quello Che avevo inserito In mezzo Ok È chiaro Sì Ok Continuiamo Quindi abbiamo detto Che se riusciamo A creare queste due operazioni Su questo binary HIP Ovvero il poter Mannaggia Ho fatto Sto facendo sempre più danni Ok Che se riusciamo a fare queste operazioni Di aggiungere un nodo E di Levar la radice Siamo a cavallo Perché aggiungere un nodo Corrisponde alla push Praticamente E tagliare la radice Corrisponde a una pop Allora vediamo Come farle Assumiamo di avere Questo HIP binario All'inizio E vogliamo aggiungere un nodo Con un qualche valore dentro Adesso Giusto per Fare esempi Non banalotti Cambio un attimo Lo rifaccio Lo rifaccio Perché almeno così Faccio un esempio non banale Quindi Che ne so Mettiamo un 1 Mettiamo un 3 Mettiamo un 2 Mettiamo un 5 Mettiamo un 4 Mettiamo un 3 Un altro 5 E 7 8 5 Ok Allora intanto questo è un HIP binario valido Perché È un albero È binario È completa sinistra E Vale che per ogni nodo I figli sono maggiori Sono maggiori uguali Cioè non vale mai che Un nodo ha un figlio Che è strettamente minore Perlomeno se non ho Sbagliato a scrivere Però In casa ditemelo Ok Vogliamo aggiungere Un nodo Mettiamo che Alla priori TQ Viene detto Push Di 2 Ok Allora cosa facciamo? Aggiungiamo un nodo Intanto C'è solo una posizione Dove È valido Aggiungere un nodo Senza ora Parlare dello HIP Se parliamo solo Dell'albero Viene completo a sinistra C'è solo una posizione Dove è valido Aggiungere il nodo Qual è? Sotto 3 Mi devi dire La prima da sinistra Del 3 Sei sicuro? Ah no Del 4 L'unica posizione valida In questo momento È a destra del 4 Non ci sono altre posizioni valide Perché se lo mettessi A sinistra del 3 Ci sarebbe un buco E se non ci dovessero Essere posizioni valide? C'è sempre una posizione valida Perché anche se Facciamo che Siamo in questa situazione Ok E quindi qua Ah vai sotto al set Vai sotto al set Esatto Quindi c'è sempre una posizione valida E ce n'è sempre esattamente una Ok Quindi sicuramente Se vogliamo aggiungere un nodo Deve essere Qua Non ci sono Non possiamo scappare Ma adesso Potremmo aver rotto La proprietà di heap E infatti l'abbiamo rotta Perché ora sotto al 4 C'è un 2 E questa cosa non ci piace Allora Quello che dobbiamo fare È Un'operazione che si chiama Ribilanciamento Ribilanciamento Terribile Ribilanciamento Bottom up Up È così Dobbiamo fare un'operazione Che si chiama Ribilanciamento Bottom up Ora lo cancello Perché mi urta Che va di là Comunque si chiama Ribilanciamento Bottom up In cosa consiste Questo ribilanciamento Bottom up È una Una procedura Ricorsiva Che funziona In questo modo Allora Partiamo Mettiamo una freccetta Sul nodo Che abbiamo appena aggiunto Ok Mettiamo una freccetta Sul nodo che abbiamo appena aggiunto E ci chiediamo Il nodo che ho appena aggiunto È la radice Se la risposta È sì Allora abbiamo finito Perché ovviamente Se aggiungiamo un nodo Ok Tipo 2 E questo nodo È la radice Quindi non c'è nessuno sopra Beh allora Questo qua È sicuramente Uno hip Perché È un unico nodo E quindi vale Banalmente La proprietà di ribilanciamento Cioè di E quando la radice Viene quasi Terato caso base La radice È esattamente Il caso base Sì Se è la radice Beh è un caso base Perché non c'è nessuno sopra Ok Quindi Il caso base È Il nodo che abbiamo appena inserito È la radice Caso non base Allora Se non sono la radice Devo avere per forza Un genitore Devo avere per forza Il padre Ma allora cosa succede La proprietà Diceva che Una cosa è uno hip Solo se entrambi i figli Sono maggiori O uguali Ma allora Se io Prima di raggiungere Questo nodo Avevo uno hip valido L'unico modo in cui L'ho potuto rendere Uno hip non valido È tramite l'aggiunta Proprio di questo nodo Allora Qual è l'unico Controllo Che devo fare Il valore Che ha mio padre È maggiore È maggiore Del valore Che ho io Questa è l'unica condizione Che devo controllare Perché se questa cosa È falsa Allora è ancora Uno hip valido Perché se prima Era uno hip valido E ho aggiunto Un elemento Che è Maggiore uguale Di quello Del padre Allora è ancora Uno hip valido Per forza Quindi cosa faccio Mi chiedo Il mio valore Il valore del nodo Che ho aggiunto In questo momento Quindi due Per caso È minore Di quello Di mio padre Che quindi Violerebbe La proprietà Di hip Beh sì Lo è Allora cosa faccio In questo modo Perdono Cosa faccio In questo caso Scambio I due valori Quindi adesso Prendo il cancellino Piccolino Eccolo qua Sarà un parto Fare questa simulazione Ok Prendo il cancellino Piccolino E scambio I due valori Prima cosa E sposto La freccetta Sul 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 Su mio padre Che è il valore Con cui mi sono appena Scambiato Ok Allora due considerazioni Sicuramente Quest'operazione Ok Ha risolto Il problema Per mio padre Per quello Che prima era Mio padre Perché se io Ero più piccolo Di mio padre Beh allora Adesso mio padre È sotto di me E quindi sicuramente Verso di lui Ora rispetto La proprietà Ma cosa posso dire Dell'altro figlio Di mio padre Cioè di mio fratello Che è il 5 5 era il mio fratello Beh se mio padre Ricordiamoci che Stiamo partiti Dall'assunzione Che quello che avevo Era uno hip valido Allora vuol dire Che mio padre Era già Più piccolo Di mio figlio Di mio fratello Ma se io sono Più piccolo Di mio padre Ok Se chiamiamo Il mio fratello S Chiamiamo Il padre P Che quindi Attenzione Non è 2 Ma era 4 Nel nostro caso Originale E chiamiamo Me stesso M Ok Se sappiamo Che sicuramente P era minore Di S Perché valeva La proprietà Di hip In realtà Minore uguale Perché valeva La proprietà Di hip Però visto Che mi sono Scambiato Allora so Anche che M È strettamente Minore di pi Perché mi sono Scambiato Allora Sicuramente Io Che sono ora Il nuovo padre Sarò sicuramente Minore di S Che era mio fratello Quindi Questo scambio Mi fa rispettare La proprietà di hip Con quello che Prima era mio padre Cioè 4 E mi fa Rispettare la proprietà di hip Anche con quello Che prima era mio fratello Cioè 5 La domanda è A questo punto Abbiamo Ristabilito La proprietà di hip Domanda No Bisogna Vedere Papà Ancora Esattamente Non abbiamo finito Perché Che che Mi si è sistemato Con mio padre Ora c'è il problema Di mio nonno Ovvero Ora sono salito qua Ok Ora c'è 3 Che era mio nonno Che potrebbe essere Ancora maggiore di me Allora cosa faccio È una procedura ricorsiva Non a caso Ricorro Ovvero faccio finta Che l'inserimento L'ho fatto qua E faccio lo stesso ragionamento Sono la radice No Allora non è caso base Allora ho un padre Mio padre È minore Io sono minore di mio padre Sì Allora cosa faccio Faccio di nuovo lo scambio Cancello qua Cancello qua Sposto la freccetta E scrivo Due Tre Freccetta Ok Per le cose che ci stanno detti Ho rispettato ancora La proprietà di heap Con i figli Ok E vado avanti Sono la radice No Sono minore di mio padre No Benissimo Ho finito So Adesso Che ho Ristabilito La proprietà di heap La proprietà di heap È ristabilita Come l'ho fatto L'ho fatto Applicando Questa procedura ricorsiva Di chiedendomi Se Il nodo che ho inserito Era la radice E poi Cercandomi Di scambiare Con mio padre Se Il Valore Che Che arriva Il nodo che ho inserito È minore Di quello del padre In questo modo Vedete Che adesso Adesso faccio un altro inserimento Mettiamo che inserisca 0 Cosa succederà Che questo 0 Per forza di cose Salirà Fino ad arrivare alla radice Ristabilirà La proprietà di heap Succederà Che 0 Non è la radice Quindi controlla con suo padre È minore del padre Quindi Si scambiano Qua ci va 3 Qua ci va 0 Continua Non è la radice Quindi Controlla col padre È minore del padre Allora si scambiano Controlla ancora Non è la radice Allora controlla col padre Il padre Il 0 è minore del padre Che è da 1 Allora si scambiano È la radice Sì Ho finito Questo è il Ribilanciamento Bottom up Bottom up Perché è dal basso Verso l'alto Ok Fino a qua è tutto chiaro? Sì Ok Bene Quindi abbiamo praticamente visto Per lo meno logicamente Per lo meno logicamente Come si implementa La push La push È questione di aggiungere un nodo Che contiene il valore Contenuto nella push E fare il ribilanciamento Bottom up Quello che ora vogliamo fare È la pop Ovvero Prendere l'elemento minimo Di questa cosa Restituirlo E cancellarlo Come facciamo? Allora abbiamo detto Che sappiamo Che l'elemento minimo Deve essere quello Da radice Cioè questo 0 Allora quindi La prima cosa che facciamo Intanto è salvarci Questo valore Perché sappiamo Che è il minimo Ok La seconda cosa Che facciamo È cancellare Questo nodo Beh a questo punto Questo qua Sono diventati Due heap binari Ce ne abbiamo Uno di qua E uno di qua È un casino Dobbiamo in qualche modo Riconciliarli Allora quello che facciamo È che prendiamo In prestito L'ultimo nodo L'ultimo nodo Ovvero Quello più a destra Dell'ultimo livello Lo prendiamo in prestito In questo caso È un 3 Lo prendiamo in prestito E lo facciamo Lo mettiamo Come nuova radice E leggiamo lui Come nuova radice Ok Beh a questo punto Abbiamo L'elemento minimo Che è 0 E ce l'abbiamo Abbiamo una cosa Che è ancora Un albero binario Completo a sinistra Perché abbiamo preso Il prestito del 3 E ce lo siamo portati Nella radice Però Non è più uno heap Cioè Non è detto Però La stragrande maggioranza Delle volte Non lo sarà Perché? Perché adesso La radice Ha degli elementi Che sono minori di lui Quindi dobbiamo Ristabilire La proprietà di heap Come facciamo? Questa volta Faremo Il ribilanciamento Ribilanciamento Top down Che è un'altra procedura ricorsiva Che mentre quello di prima Era bottom up Nel senso che Prendeva un elemento dal basso E lo ribilanciava Verso l'alto Questo qua Prenderà un elemento in alto E lo ribilanciarà Verso il basso Ma Scusami Mi sono perso un attimo Una cosa Sì Quando avevamo due heap Cosa abbiamo fatto? Abbiamo Li abbiamo Messe insieme Allora Visto che C'eravano rimasti con due heap Dovevamo In qualche modo Ritrovare una nuova radice Da mettere Ok Quello che abbiamo fatto È che abbiamo preso L'ultimo nodo Ok Quindi facciamo finta Che non abbiamo mai Veramente distrutto heap Abbiamo solo In qualche modo Cancellato temporaneamente La radice Però facciamo finta Che heap c'è ancora Visto che là Ci dobbiamo mettere Un qualche nodo Quello che facciamo È che prendiamo L'ultimo nodo Cioè quello Più a destra Dell'ultimo livello E ce lo spostiamo là In modo che Abbiamo ancora Un albero binario Completo a sinistra Che non è detto Che sia un heap Ok Infatti Dobbiamo ribilanciarlo Però sicuramente È un albero binario Completo a sinistra Ok Sì Se non è ok Dimelo eh Cioè No no va bene Ok Cioè il fatto è che Non abbiamo mai Veramente spaccato Sto albero Semplicemente Abbiamo preso il valore Che c'era nella radice E abbiamo sostituito La radice Con l'ultimo nodo In modo che Ancora un albero binario Completo a sinistra Cioè abbiamo preso L'ultima posizione valida In modo che se la leviamo Rimane ancora un albero binario Completo a sinistra E l'abbiamo spostata E l'abbiamo spostata da radice Ora dobbiamo Farlo tornare Uno heap binario Cioè uno heap Cioè dobbiamo far Ririspettare La proprietà di heap E quindi per farlo Facciamo un ribilanciamento Top down Come facciamo? È una procedura ricorsiva Il caso base è Il nodo che abbiamo inserito È una foglia Perché se è una foglia Il nodo che abbiamo inserito Quindi è lo stesso caso Che non ho nessuno sotto Quindi mettiamo tre Beh allora Ho finito Perché sicuramente Non posso avere un figlio Che è minore di me Se sono una foglia Foglia vi ricordo Vuol dire che non ho figli Se non ho figli Ovviamente ho finito Sono un caso base Allora Se non è il caso base Vuol dire che questo nodo Deve avere almeno un figlio Quello a sinistra potrebbe Eh perdon Quello a destra potrebbe non esserci Ma quello a sinistra Per forza c'è Quindi qua c'è un qualche valore A E qua ho i valori dei figli B e C Allora La prima cosa che faccio è Controllo C'è uno dei miei figli Che è minore del mio valore C'è un valore tra B e C Che è minore di A Se la risposta è no Allora ho finito Perché vuol dire che Non c'è più nulla da ribilanciare Perché se sicuramente Entrambi i miei figli Sono degli hip validi Ok perché l'unico elemento Che ho cambiato È questo qua È la nuova radice Sicuramente Quelli là Sono ancora hip validi Quindi se sono entrambi Maggiori o uguali Al valore Della radice Beh allora È ancora tutto quanto Un hip valido Quindi qua la condizione Per cui questa cosa Non è più uno hip valido È Che almeno Uno dei due figli Deve essere minore Ok Allora Quindi ora Se nessuno dei due figli È minore Abbiamo finito Ora stiamo assumendo Che uno dei due figli È minore Se solo uno Dei due figli è minore E l'altro è maggiore o uguale Beh è facile capire Con chi dobbiamo scambiarlo Dobbiamo scambiarlo Con quello là Se mettiamo Che ci sono entrambi E sappiamo Che A È maggiore o uguale A C No anzi Scusate Sappiamo che A È minore di C Però sappiamo Che B È minore di A Ok quindi C va bene Perché è maggiore B invece Non va bene Perché è minore Beh allora Per Ririspettare La proprietà Dello HIP Basta che scambio A e B Perché così B Andrà Alla radice Cioè Alla posizione Dove era A E Sicuramente Essendo che B è minore di A E A è minore di C B sarà anche minore di C Quindi verso C Rispetta la proprietà E invece A Sicuramente rispetterà Ora la proprietà Perché è diventato Il figlio di B E quindi B è minore di A Quindi se solo uno dei due figli È minore Beh lo scambiamo con lui Ma invece cosa succede Se abbiamo entrambi i figli E Entrambi i figli Sono minori di A Come ci possiamo comportare? Domanda per voi In questo caso Ma io mi scambierei col minore Ci scambiamo col minore E l'altro funziona Esattamente Esattamente Se noi ci scambiamo col minore Facciamo finta che B è minore di C Quindi B è il minore dei due Allora ci scambiamo con lui Perché in questo modo Abbiamo fatto rispettare La cosa tra A e B Perché ora B è il padre di A E quindi rispetta Ma essendo che B è minore di C Beh allora B è un padre valido Anche per C E quindi abbiamo rispettato La proprietà di heap Quindi facciamolo Ok facciamolo Quindi 3 C'ha due figli Sono entrambi i minori Lo scambiamo col minore dei due Quindi scambiamo 3 e 1 Quindi siamo qua Abbiamo finito? No che non abbiamo finito Perché è una procedura ricorsiva Tant'è che infatti C'è un valore qua che è minore Dobbiamo continuare Finché o non sono una foglia E quindi ho finito O entrambi i miei figli Sono maggiori o uguali Al valore che ho io Se ho solo un figlio Ovviamente faccio il controllo Solo con quel figlio Se è maggiore Uguale Perfetto Se è minore Mi devo scambiare Quindi in questo caso Ho due figli Solo uno dei due minori Quindi è un caso Più semplice Tra virgolette Mi devo scambiare col 2 Allora cosa faccio? Faccio lo scambio 2 va qua 3 va qua A questo punto sono qua Questo è un caso base Ok Perché non ho figli Allora ho finito Ho fatto il ribilanciamento top down Ho fatto scendere L'elemento che non era valido In un posto dove è valido Ribilanciando l'hip Quindi In qualche modo Cioè Rifacendo rispettare La proprietà di hip Ok Fino a qua ci siamo Ok Perfetto E Una volta che abbiamo ribilanciato l'hip Restituiamo 0 Cioè restituiamo l'elemento Che era la radice Per il pop E abbiamo finito E abbiamo implementato Cioè abbiamo Capito Come fare L'operazione pop Ok Perfetto Il punto è Come diavolo implementiamo Sto albero binario bilanciato Sto albero binario completo a sinistra Perché è tutto Bellissimo Ma Sto cavolo di albero In qualche modo Ce lo dobbiamo scrivere in C In qualche In qualche vogliamo Allora per farlo Possiamo usare Un trick Che si basa Sul Sull'erre dinamico Il trick qual è? Quello che vogliamo fare Facciamo finta di avere Adesso ne faccio uno un pochino più piccolo Ok Facciamo che abbiamo questo qua Tipo 2 Che ne so 4 3 4 5 Ok Quello che vogliamo fare È rimappare Ognuno di questi nodi In una qualche cella Del nostro eredinamico Ok Vogliamo rimappare Ognuno di questi nodi In una qualche posizione Quindi Questi qua Sono le solite Posizioni del vettore Classiche Ok Il trick È questo Diciamo che la radice Ok Sarà Nella posizione 0 Del vettore Quindi nella posizione 0 Ci scriviamo 2 Perché diciamo Per definizione Che la radice È nella posizione 0 Del vettore E fino a qua Direi tutto a posto Dopodiché Il trick è questo Diciamo Che il figlio sinistro Il figlio sinistro Di un certo nodo x Dove x A questo punto Diventa la posizione Nel vettore Ok Quindi la radice Sappiamo che ha x uguale 0 Quindi la posizione Del figlio sinistro Sarà 2 per x Più 1 E la posizione Del figlio destro Di x Sarà 2x Più 2 Incredibile ma vero Questa cosa Riempie In modo contiguo Senza sovrapposizioni Il vettore Proviamoci Allora abbiamo detto Che per definizione La radice È nella posizione 0 E sto 3 Dove lo mettiamo? Beh Chiediamoci Qual è Il figlio sinistro Di 0 Mettiamo 0 qua dentro 2 per 0 Fa 0 Più 1 1 Guarda un po' 3 va qua Questo 4 Dove lo mettiamo? Facciamo la formula Quindi questo Sappiamo che è 1 adesso Facciamo la formula Figlio destro di 0 Sarà 2 per 0 0 Più 2 Guarda un po' Va qua Questo è 2 Il 5 dove sarà? Sarà il figlio sinistro di 1 Allora cosa facciamo? Mettiamo 1 qua dentro 2 per 1 fa 2 Più 1 3 Guarda un po' È esattamente qua E se facciamo questo Senza sorpresa Questo qua è 1 in più Questo qua sarà la posizione 4 E così via Se notate Il vettore viene riempito Esattamente per livelli Ovvero Prima ci mettiamo Vabbè solo la radice Poi ci mettiamo Tutti quelli del primo livello Poi tutti quelli del secondo livello E così via E il vettore si riempie in questo modo Quindi In realtà Per rappresentare Questo nostro albero Ok Ci basta un semplicissimo Vettore dinamico Dove Quando vogliamo Aggiungere un nodo Beh Basta che facciamo un pushback E lo aggiungiamo Quindi basta aggiungere Un elemento al nostro vettore E abbiamo aggiunto un nodo Fondamentalmente Perché È come se stessimo creando Esattamente questo nodo Ci vogliamo mettere Che ne so Un 7 Ok E stiamo implicitamente Facendo proprio questo Se vogliamo fare Un Come si chiama Una pop Quello che vogliamo fare È Prendere Il L'elemento 0 del vettore Questo sarà il nostro return Scambia Scriverci sopra Alla posizione 0 L'ultimo elemento Quindi in questo caso il 7 Quindi lo leviamo da qua E lo mettiamo qua Cioè Levarlo in realtà Vuol dire semplicemente Fare la popback Del vettore E sovrascrivere Il primo elemento Ok Quindi in realtà Quello che succederà È che diminuirà La s Non è che succederà altro E poi fare Il bilanciamento Verso il basso Ovviamente dobbiamo fare I bilanciamenti Come al solito Però I bilanciamenti Li facciamo Cioè scriviamo le funzioni Che prendono come parametro L'indice E poi Considerano come figlio destro E figlio sinistro Li considerano con queste funzioni L'unica cosa che ci manca Per essere completi Che ve lo chiedo a voi È Come trovo Il padre di x Perché per fare il ribilanciamento Abbiamo visto che ci servirà a sapere Chi è il figlio sinistro Chi è il figlio destro E chi è il padre Di un certo nodo Come troviamo il padre Di un certo nodo x Dove x è l'indice Nel vettore di questo nodo Se dispari Facciamo La casella Del figlio Meno 1 Fratto 2 E se pari Meno 2 Fratto 2 Ottimo In realtà Va benissimo Però se facciamo x meno 1 Fratto 2 Arrotondato per difetto La stessa cosa Però Va benissimo Che è quello che hai detto Perché in realtà Quando facciamo x meno 1 Fratto 2 E poi in c Fa già l'arrotondamento per difetto E quindi basta fare questo Ed vale per entrambi Però sì Validissimo E Cavolo Abbiamo tutto Abbiamo veramente tutto adesso Perché Per fare la push Facciamo una pushback Sull'erodinamico Questo è un normalissimo erodinamico Facciamo la pushback Sappiamo ora Con la sides Dove l'abbiamo Cioè Sappiamo la posizione In cui l'abbiamo inserito Perché basta che prendiamo La sides Dell'erodinamico Subito prima Di fare la pushback Quindi sappiamo In che posizione Verrà inserito Facciamo finta Quindi che ci troviamo A quel nodo E guardando Il padre Perché nel Nel Ribilanciamento Bottom up Dove guardare il padre Usando la funzione Usando la funzione Usando la funzione padre Facciamo I ragionamenti La radice Sapremo che saremo In posizione La radice Quando x è 0 Che è il caso base E altrimenti Facciamo il caso generale Quando facciamo Pop Quello che vogliamo fare È fare Una popback Del redinamico E sovrascrivere Il valore iniziale Ovviamente il valore 0 È quello che ritorniamo E poi Con le funzioni Fs ed fd Facciamo il ribilanciamento Top down E quindi abbiamo Implementato la pop E per implementare La size Beh è banale Restituiamo proprio La size Del redinamico Quindi in realtà Non ci serve Roba particolare Per implementare Sto albero Ci basta Un normalissimo Redinamico Con un minimo Di trick Per mappare I nodi In indice del vettore Fissando che la radice È in posizione 0 E poi definendo Ricorsivamente Tutti quanti gli altri Ma Se è un albero Completo Binario A sinistra È possibile Che nell'array Ci siano Alcune caselle vuote No Non è possibile Non è possibile Cioè abbiamo fatto Completo sinistra Proprio in modo Che non sia possibile Perché Questa è un'intuizione Per carità Non è una disinunzione formale Ma se tu provi A fare questo procedimento Noterai Che L'ordine in cui Vengono inseriti Nel vettore I nodi È proprio Prima tutti quelli Del primo livello Poi tutti quelli Del secondo livello Poi tutti quelli Del terzo livello Poi tutti quelli Del quarto livello E così via Ma se questo qua È completo a sinistra Quindi non ci sono mai Buchi A sinistra Beh allora Il vettore sarà contiguo Ma se per esempio Se per esempio Lì mettessimo Un nodo Di fianco al set Viene Nella Nella casella Due per due Più due Quindi Sei Però se ne mettiamo Ah non Non possiamo Eh no Eh no Il prossimo deve essere qua Ma questo qua È quello che va qua Ok Cioè Sì ok Non si può aggiungere Un nodo sotto il 5 Non si può aggiungere Un nodo a destra No Perché il prossimo è qua Va bene Ok Perché c'è sempre Solo una posizione In cui possiamo aggiungere Il nodo Che guarda caso È proprio la prossima Posizione libera Nel vettore Quindi in realtà Fare una pushback Sul vettore Sta implicitamente Aggiungendo quel nodo Capito Perché poi nel codice Noi non menzioneremo Cioè È come se Potremmo anche Non avercelo l'albero Alla fine Cioè L'albero è una cosa Mentale E quello che abbiamo È proprio un vettore Non abbiamo nient'altro Che un vettore Il fatto che lo stiamo Considerando come se fosse Un albero Per questo dico Che è importante Astrarsi Perché in realtà Possiamo usare Delle strutture Dati Base Perché è un Cavolo di vettore Dinamico Questo qua E possiamo costruirci sopra Un heap binario Ok Ultimissima cosa Ultimissima cosa Ci dobbiamo chiedere Qual è la complessità Computazionale Beh Non è difficile vedere Che sia Cioè ogni volta Cosa facciamo Facciamo operazioni costanti Sul vettore Che sono Popback O pushback Ok Per rispettivamente Push e pop E poi dobbiamo fare I ribilanciamenti Quindi il costo Verrà dai ribilanciamenti Non è difficile vedere Che sia il ribilanciamento Bottom up Che quello top down Fanno Tante operazioni Quanto L'altezza massima Di sto albero Perché faranno Esattamente Un'operazione al più Su ogni livello Questo non è difficile Albero Questo albero Un albero binario Completo Dimentichiamoci un attimo A sinistra È un albero binario Completo Per carità Sinistra Ma facciamo finta Che sia completo Quindi aggiungiamo anche Di nodi farlocchi Nell'ultimo livello Questo vuol dire Che ci sarà Un nodo Nel Primo livello Due nodi Nel secondo Quattro nel terzo Otto nel quarto E così via In ogni livello Ci sono due Alla livello nodi Zeresimo livello Ce n'è uno Primo L'unesimo Ce n'è due E così via Quindi vuol dire Che se noi abbiamo N nodi Ok Allora K È il numero di livelli Ma allora Se vogliamo ottenere Questo K Che è il numero di livelli Cosa sarà Sarà Questa qua È proprio la definizione Di logaritmo Se vi ricordate È proprio la definizione Quindi sarà Logaritmo In base 2 Di N E se questo è il numero Di livelli Per un albero Di N nodi Beh allora Il costo Di fare la push E la pop Che entrambi Devono fare Un ribilanciamento Che abbiamo detto Che costa Tanto quanto L'altezza dell'albero Beh allora Costaro N E con questo Abbiamo visto la complessità Ok Se avete domande Questo è il momento Giusto per farlo Su qualunque cosa Di quello che abbiamo visto Che sia sulla correttezza Sulla rappresentazione implicita Sulla complessità Quindi con questo Per riassumere Abbiamo Visto come implementare La struttura stratta Priority queue Come facciamo Scusa Dimmi No Non ho capito perché Ma non ho sentito L'ultima frase Pensavo di essere Crasciata E invece sei ripartito Non ho sentito Da quando hai detto Che possiamo fare Da Da sopra Sotto Ma Hai chiesto Della lunghezza Se non sbaglio Cioè Push e pop Ci costano Loghen Allora Per risumere Ho detto Volevamo implementare la probability queue La struttura stratta Priority queue Quindi una cosa in cui Possiamo fare push Di un elemento Qualunque Perché quando facciamo pop Restituisce Il più piccolo Per implementarla Abbiamo visto Come funziona La struttura stratta Del leap binario Ok E poi Infine Abbiamo implementato La struttura stratta Del leap binario Utilizzando Un semplicissimo Eredinamico Che poi ovviamente A sua volta Userà Un errori statico Quindi abbiamo fatto Questo giro Ok Però è tutto Un giro mentale Cioè In realtà Alla fine Le foundation Che stiamo utilizzando Sono oggetti semplicissimi E tutta quanta Una costruzione stratta Su come utilizzare Questi oggetti Che abbiamo Per creare Strutture più compresse Per creare cose Che ci fanno Fare operazioni Che vogliamo Faccio un piccolissimo Spoiler Magari avete sentito Tutta questa cosa La probability Queue È proprio Il blocco base Che ci servirà Per costruire Uno degli algoritmi Più importanti Su grafo Che faremo Che è l'algoritmo Di Dijkstra Per i percorsi minimi Si basa tutto quanto Sulla probability queue Ok Lo chiedo Per l'ultima volta Per oggi Ci sono domande No No Perfetto Per oggi Ho finito Per l'ultima volta